Musica Uno dei fondatori della festa della trippa sagra, della trippa 42esimo anno che si fa qua al progetto di Serra Sant'Abbondio, come è iniziata? Eravamo un gruppo giù di queste due o quattro case, stavamo lì a discorre con la sigla, si parlava e si sentiva qualcuno che cominciava a fare queste feste, ma noi lo volevamo organizzare, c'era un invalido pure che era bravo e io gli ho detto, qui mettemmo i nomi, mi è scappato detto, mettemmo i nomi, fanno la trippa perché io compravo le bestie, mazzavo le bestie, gli apportavo le trippe dei tori, ma quelle po' le donne per pulirle, quanto l'ho fatta lavorare. Ma anche adesso? Anche adesso, ma adesso arriva una diversa, bene o male, una volta quando pulivi il toro, solo levavi lo stirco e poi la portavi via. Va bene, dopo quattro? Non ho fatto tanto, quelle po' le donne. Ma però è una festa riuscitissima. Però è riuscita sempre, ma siamo partiti con 30 kg, il primo anno, tanto per provare. Adesso? Adesso due quintali, 30 kg l'anno scorso. Tanta trippa, tanta trippa. Ci volete combattere. Sì, ciao. Grazie, grazie. Prego. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.